bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di solo darius to diamond siamo c'è un autofillato support ma questa è una solo darius quindi darius support giocheremo in questo game abbiamo preso l'ignite cioè preso l'ignite vabbè ha messo il colossus maestria forse ci può dare un po più di utility rispetto al graspo e abbiamo luciana di gary l'abbiamo e the real zyra come lane che non è non è proprio il massimo però ci proviamo allora partiamo di relic shield abbiamo si abbiamo le le i biscotti ho messo quindi ok abbiamo 6 giovani pantheon top con l'ignite si e il deathfire touch che vabbè su pantheon si può anche utilizzare per boccare più di co quindi anche perché il pantheon è solo quello praticamente è poccare a ras 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 e poi all in quando l'avversario è svezzato e via però se ci abbiamo anche luci nfk ci abbiamo tre ignite nel team che non è male perché di là c'è vladimir c'è renekton pure che si cura parecchio beh quella cupro sti cazzi sicura kindred che andrà a buildare l'ice steal e anche ezreal quindi kinda good ok sta arrivando lucian va bene io non so di che skill start tale sinceramente perché potrei provare andare all in a livello 1 perché ezreal non avrà la e ci si potrebbe provare ci si potrebbe provare però non capisco cosa stia facendo lucian vai mate chiudi porno questo lo lasciamo formare a lui 3dq non ho minima idea di come giocarlo però farò una build tipo simile a quella di sion support tipo credo ops l'ho farmato io eh purtroppo di auto attack ci bocca molto e anche di q e zia che doggeremo eh prendi sto minion ok si è preso la storrettata si è preso la storrettata tanto non ho visto che ho fatto la force blood io prenderei il grab perché si sa mai ah pantheon va bene va bene e purtroppo abbiamo l'autofill quindi quello se lo farma eh questo è arrivato da auto attack ma siccome non sono support questo lo farmo io eh ok è arrivato da alieno attack questo questo rompe parecchio zyra madonna io non gioco mai support wtf vabbè 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 dov'è la ulti di vabbè ho ancora due pozze posso rimanere posso rimanere però non ho neanche il grab a un momento sono inutili vabbè ma anche perché la loro è una lane aggressiva quindi è normale e zreal non tanto ma you can't do shit è un gioco mi hai detto prendiamo prendiamo sto minion diciamo e poi chi ha detto che Darius support non è viabile è solo per adesso la loro lane che è aggressiva ma questo con qualsiasi altra lane sarebbe stato prendiamo il carretto questo non l'abbiamo preso mai nella vita vabbè maxiamo la Q ovviamente perché è la skill di maggiore danno è importante comunque anche se maxare lane per il cooldown non sarebbe male ma noi dobbiamo fare comunque danno perché se riusciamo a staccare la passiva su zyra 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 e qui effe bot puciamo 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 E ne ho back Beh dai non ce la siamo giocata male Abbiamo sprecato sia Flash che Night Però Ezreal è morto Quindi Scarpette necessarie Le Ward No Non ancora almeno Andiamo a Control Due Pozze e via Ci uppiamo questo Beh dai non è andata male Però ho preso solo un assist Ah si perché effettivamente è morto No Zero non è morto Si ok ok Però Lucian c'è l'iel Lucian No non è l'iel Ah il lato anche Il No no Sams Si prendiamo noi Tanto non l'avrebbe presi Vai vai farm anche Le piantine Mettiamo la Ward qua Dopodotto siamo Support Ce la fai? No Te la frizzo pure Frizzala free Vabbè Vabbè Dopodotto uno che ti dice You can't do shit Ok Loro non hanno niente Ma neanche noi Lo butto Però noi Dovremmo fare prima il 6 In teoria Perché abbiamo Perché abbiamo L'expo delle kill Però Se con quello Continua a farsi Poccare Quante pozze ha? Ok c'ha due pozze Eh vabbè L'ho sorpreso anche io Qua dobbiamo togliere assolutamente Sto tre piante Ok Pantheon 4-0 Merde Sarebbe potuto andare più Deep Se non avessi preso Tutto sta rust Quella ha fatto la goccia E ha solo una long sword Ok Non riesco perché Attacchi me la pianta Se Kindred topside Ci segnala Sejuani Mettiamo la ward E togliamo la pianta De merda Mettiamo anche la ward Qua Qua c'è una pianta Non è che l'avevo vista Ce la prendiamo La nostra piantina Mazzini dai Ci rifulliamo E via Dai Come fare la co No Non l'ho fatta la co Ci prendiamo il carretto Easy La nostra ward Sta pushando Ok L'exos su di me Vabbè Non lo prenderò mai Non lo prenderò mai Ok Ok Io Chiudere le scarpette No vabbè Prendiamo le ward Vai Oppure queste No Prendiamo queste E L'item Delle ward Poi Prossimo back Ci facciamo Ora non c'abbiamo Ne una Cazzo Non c'abbiamo le fozze Vabbè Intanto Pantheon fa Bordello 6-0 7-0 Work Supporto Darius Allora Avranno le summoner Bot A breve Proviamo Se torna avanti Gli flashiamo in bocca Ok c'è C'è Zyra Zyra flash Ok Ok Candalud Andiamo al carretto Non posso flashare Su Zyra Oh C'è C'è Kindred Mi sembra Per averlo visto Sì Eccolo Ah Sbagliato Andiamo via Andiamo via Andiamo via Parca troia E ok Eccosi Ok Ok Vabbè Vabbè Tanto Zyra Un po' fa niente Ah Liel L'ha usata Ah Non ce l'aveva Ok Eh Probabilmente Morirà anche Luzian No Arrivare Arrivare Eh però Luzian è morto Vabbè Però è morto Anche Zyra Dai Kinda worth È morto pure Se Giovanni Fortissimo Allora Ci dovremmo fare Utility In teoria Come si chiama Questo qua Ma si dai Costa poco Lo facciamo Dopo faccio Ah il Tring Eh vedi Non giocare Sopport Soldi per la Pink Qua già Guardato Però Guardiamo Anche qui Probabilmente Lì Sera Guardato E ci Guardiamo Qua Visto che Non abbiamo La Pink C'è la Control Vabbè Vendiamo Zyra Sali C'è Zyra C'è Zyra Sta arrivando Eccola 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 Non ce l'ho fatta Vabbè Vendiamo Questo Direi Di romare Un po' Se torna Midland Quello Vladimir Allora Torna il botto E non riusciamo A prenderla Qua è tutto Guardato Stanno facendo L'Herald Lì Dove stanno Ok Eccola Vladimir Probabilmente Pantan Isha Down Facciamo Un giro Di qua No Dove Almeno L'assist L'assist Fatto la E Per non stillare La kill Dai dai Qua possiamo Prendere la torna Madonna Senza Ma che rogno C'ha Ah Il movement speed È vero Non so Non so se Possiamo Però Sì Cazzi Facciamolo What? Stanno trollando Stanno evidentemente Trollando Vabbè Vabbè Sono morto Vabbè Arriva Pantheon Arriva Pantheon No ma L'acqua non è partita What the fuck Lol È morto proprio con l'ultimo tick dell'ignite L'altro questo si chiama ancora piccolo Ancora junior Se intende quello O se no Ancora piccolo L'acqua Crescerà Un giorno Vabbè Abbiamo il trinket E via Ragazzi 16 minuti E abbiamo preso Inibitore Prendi Sti cazzo Ah no Si dovrebbe salvare Anche perché C'ha 6 giovanni Quello non è così veloce Sì Sì Si salva Si salva Oh c'è il rankton Ah ma sta facendo la giungla Il drakon Group Mid C'è Teoricamente No Però Non dovremmo gruppare mid Ma ormai è rimasto talmente low Inibitore Vabbè Io prendo la torre qua Intanto Vabbè Faccio purissimo danno No Non la prendo Vabbè Vabbè L'usia non è interessato Alla farm La prendo io Ma se è così forte Che palle Che palle Quattro bot Per un Darius support Se non 5 Perché l'ha fatto Sapeva che stavano tutti là Morta No Mi sa di no Cos'era Quello Cos'era Quello ultimo Chiamo qui Group Allora Aspetta Devo prendere Devo prendere Allora Questo Poi io la mandai Che me la faccio Perché se no Non c'ho danni Proprio zero Come si usa sta cosa Che fa Designa un campione Alleato Come compagno Ok Il tuo compagno È vicino Ottiene 40 armatura E 15% Deveci dare movimento Verso il tuo compagno Leggere gli item In live Se il tuo compagno È vicino Cura il 12% I danni inflitti Dei campioni E devi su di te Il 12 danno Sì cazzo Sì Danni puri Porca troia No Eh Ti volevo Curare In qualche modo Eh però Dovremmo chiudere Sta partita Tipo adesso Perché se no Poi diventerà Kinda hard Dov'hai? Ma dove Oh Oh Pezzo di merda Oh 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 C'è un re Necchione Eh vabbè Eh vabbè Ci ho provato Salve Salutate È passato Anche se In teoria Mi incomberrebbe Vare Prima questo Se ci arriviamo Col timer Di morte Se ci arriviamo Dai dai ci arriviamo Ci arriviamo Sto giocando Darius Support M'hanno M'hanno Autofillato Eh solo Darius Solo Darius Abbiamo Pandion 13-3 Top Contro Con Con Allora Però si suicida Ok È andato via Di ulti Per favore Cos'è questa Ah La meditation A stream Scusa Adesso è una piantina Una piantina in zero Allora guardiamo qui Poi Siamo il support Guardiamo Ah prima Tra l'altro Non ho usato Il cavaliere Di sta Minchia Vabbè Lo usiamo adesso Vai Via Facciamo il drago Facciamo obiettivi Siamo bravi Quella è morta No Giogame è morta Eh Prosi Ah Vabbè Sei un po' tarda Però Mio No Ho il mid Eh Magari Eh Cioè L'inibitore Sta scoperto Dai 15 minuti Però Nessuno Vuole prendere Benissimo L'inibitore Magari Ok Ok Rob Abbiamo fightato Senza L'hp Carry Guarda Se fossi stato Top Probabilmente Avrei fatto Penta Easy Proprio Easy Che 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 vuole Questo Ah Pantone Deve Splittare Vabbè Facciamoci oggetti Da support Chiari oggetti Da support Vabbè Facciamo prima Chiudiamo Sta roba Qua Sennò Proprio Zero damage Ma perché va 1v5 Quella Perché Possiamo Falbaron Sennò Il balance Viene Usiamo Dai Il kinder Il kinder Di sabote Dai Il kinder Di sabote Ma sti cazzo Dai È morta Ma perché Ultima Non ti attacca Dai Smite No Neanche l'ha smitato Vabbè Non lo so No Dai Stavo dando Man forte No Vabbè Ok Me ne vado Me ne vado Me ne vado Ciao Ho il baron Tornò in base Veloce Oh Ma prendi Come on Oh Alleluia L'abbiamo fatta Aggruppare Decentemente Dovremmo andare Bot O top Forse è meglio Top Ma non riusciamo Mai nella vita A finirla Vabbè 10 secondi A Vladimir Ma secondo me Non la finiamo Anche perché Quello Ma perché Non kaiti Maiale di merda Lusia Vabbè Insultare Gente a random Quella Ci muove Anche C'è la smite Cosus No Non è vero Se i mostri Non si stacca Io No Qua 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 Eh vabbè Ma sei ritardo Allora Sei in ritardo Vabbè Guardi Zerial Guardi Zerial Capirò Che sta là No Non mi aiuta A pusciare Perché Sta nascosta Nel bash Quindi C'è Vabbè Dai Stiamo nascosti Nel bash No Appena 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 Zerial Si va avanti L'engaggia Non ha senso Ho preso la torre Da solo Facciamo prima Però Vabbè Quello Sta ancora Farmando Noi qua Prendiamo Torri Prendiamo La torre Per favore Oh Oh Di quanto Non ho preso Vabbè Andiamo via Andiamo via Andiamo Andiamo via Vabbè Io vado via Ciao E Ci facciamo Questo Un altro item Su supporto Vabbè Io non so Gli altri Non stanno facendo Niente Cioè Io ho preso La torre Quasi Rinibitore Da solo Che Ari È stata Nascosta Nel bash E Quando si dice Che il support Carri Out Non gridi Qualcosa Di più Vabbè Io pusho Qua Tanto Là Se la finisco La finisco Oppure Da solo Livello 13 Ah ma Zai Era tipo FK Sì Sicuramente Prendiamo Robbe Sulle torri Oh Hai rotto il cazzo Torre di merda Dai su Tanto è finita Prendiamo la torre Così da Un voto più alto Bene Ora Pensiamo Alle kill Ah è finito il battle Tanto Ma Lo usiamo Una volta Su Cavaliere Questo Questo Dov'è Madonna E scarsa Vabbè Qua intanto Push Loro Sono impegnati A depushare I minion I super minion E io Mi prendo anche Quest'altra Torre Dai Renekion Vai 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 Renekion Vai Vai Troppo Forte Porca Troppo Forte Per me Aiaiaiaia Eh Mi sa Che abbiamo Perso Abbiamo perso Una torre Sola Quella botta Quando abbiamo Rommato Illusion Abbiamo Rommato Top Non si sa Perché Però abbiamo Io ho preso Un assist Da quella roba Ce la facciamo Chiudere La partita Ma si Pure il drago Un tp Lì E via Un tp Ehm Mamma Boh Mi chiudo Questo A caso Proprio D'altro Io invece Che il Lignite Dovevo prendere L'ex Oss Mi sa Giusto Perché Ce avevamo Già Due Lignite Quello Fa 1v1 Quella One Shot Vabbè Ma Dopotutto Kingred C'ha 14 Morti 1v1 Interessante In toppe Vediamo Chi Chi la Spunta Attenzione Panthen Perché Forse C'ha 17 Chi Forse Ma Perché Non Distuggiamo Il nexus In Degistini Tutori Tipo No No Dai Faccelo Arrivare Dai Faccelo Arrivare Via No Ho fatto L'animazione No Guys C'hanno Anche Questi Gate Oltre Che Quello Della La volta Scorsa Holy Shit Si Baga Qualsiasi Cosa Guardate Qua Abbiamo Mettato A posto Abbiamo Mettato A posto Ecco Abbiamo Mettato A posto Credo Credo Abbiamo Mettato A posto Comunque Vediamo I danni Quando Il voto Ha più Wow Come Si contasse Qualcosa Abbiamo Fatto Più Danni Di Se Più Danni Di Zaira Do Fk Ragazzi Vabbè Ragazzi Con 22 LP Dario Support Vi saluta Alla prossima Vi raccomando Passate La Twitch Che Io In genere Verso Le 7 Comincio A stream Mi raccomando Passate E Allora Bella Do Cazzo Se Spegne Ecco